ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi mukbang super autunnale andremo a mangiare gnocchi viola con zucca guanciale croccante noci gorgonzola e radicchio fatemi sapere giù nei commenti se volete la ricetta così ve la caricherò quanto prima possibile come vedete qui alle mie spalle è pieno di pacchi guardate qui quanti ne abbiamo qui sotto ce n'è anche un altro di marta che però non riuscivo a far stare nell'inquadratura ed ho utilizzato per reggere gli altri di cosa si tratta il 18 ottobre è stato il mio compleanno abbiamo festeggiato il live dalla mattina alla sera sul social viola trovate il link giù nell'infobox e per l'occasione ho creato una wishlist la trovate giù fissata nel primo commento ho tolto i regali perché non mi sembrava giusto che si leggessero solo due nomi su tutti coloro che hanno partecipato domani aspetto altri due regali non vi preoccupate se pensate di essere in ritardo anche perché la festa ufficiale la faremo sabato 21 in live dalla mattina alla sera sempre sul social viola che vi ricordo trovate qui sotto ma ora passiamo al piatto guardate qui che bellezza che colori super autunnali mi dà delle vibes pazzesche e soprattutto lo trovo perfetto per halloween io oggi ho scelto questo tipo di impiattamento perché gli gnocchi sono stati cotti ieri oggi per scaldarli ho dovuto aggiungere del liquido quindi mi si sono leggermente ammorbiditi e incollati ieri erano perfetti a voi consiglio di metterli impiattati a modi risotto così da giocare più con i colori mettere più zucca sopra più guanciale e più noci abbiamo parlato abbastanza passiamo a mangiare questa goduria perché veramente ieri sono impazzita sono pazzeschi queste patate perfette avevo paura che potessero non far riuscire lo gnocco invece tra le migliori patate mai utilizzate bene cosa ho fatto ieri per il compleanno sono andate live dalle 11 di mattina fino alle due mezza di notte ebbene sì ogni tanto lo devo fare sapete che amo stare in vostra compagnia quindi ne ho approfittato visto che era il giorno del mio compleanno il guanciale ci sta benissimo perché dà un tocco di sapidità che altrimenti mancava se ci pensiamo il gorgonzola è dolce il radicchio non è troppo amaro la patata viola rimane dolciastra quindi la sapidità del guanciale trovo si abbini perfettamente ieri sono stata super entusiasta del menù che pur non volendo è uscito totalmente autunnale sono partita la mattina facendo dei pancakes alla zucca con le spezie del pumpkin spice latte che ve lo dico a fare li amo infatti me li sto preparando da quando siamo entrati in autunno abbiamo proseguito poi pranzando con questo piatto qui all'inizio la zucca non era contemplata però trovavo fosse un po troppo piatto come colore infatti poi ho detto aspetta ma l'arancione e il viola stanno benissimo insieme e mi è venuta l'idea di andare a mettere la zucca spezzettata sopra in questo caso troviamo polpa di zucca cotta al forno senza olio senza sale senza niente potreste pensare anche di mettere delle chips di zucca che farete arrostire al forno fino a che non diventano croccanti mi raccomando tagliatele molto sottili per i più golosi potete pensare di mettere dei cubetti di zucca fritti date libero sfogo alla vostra fantasia è sorprendente come le idee vengano man mano ero partita dicendo farò degli gnocchi viola gorgonzola e radicchio e guardate qui cosa è uscito fuori le noci naturalmente le potete sostituire con le castagne la giornata poi si è conclusa con una pericena spaziale abbiamo fatto l'apple cider spritz ovvero uno spritz a base di sidro di mele in questo caso alcolico molto molto buono mentre lo spritz risulta un po troppo estivo ancora per questo periodo l'apple cider spritz lo trovo perfetto visto che ancora fa caldo però nella mia testa è autunno quindi dovremo mangiare le classiche cose dai sapori autunnali e l'apple cider spritz sotto questo punto di vista fa al caso nostro lo abbiamo accompagnato a dell'hummus di zucca altra cosa speciale io utilizzo prevalentemente zucca delica che ha quel sapore un po più castagnoso rimane più compatta quindi la trovo più performante in base alle ricette che mi serve fare l'hummus lo abbiamo mangiato andando a prelevarlo con delle carote tagliate a bastoncini sembrerà poco ma in realtà l'hummus sazia parecchio e vi dirò aggiungere la zucca non solo regala all'hummus un sapore totalmente diverso particolare che se amate la zucca amerete ma vi dona anche più volume quindi con la stessa quantità di ceci riuscite a servire hummus per più persone oppure vi saziate di più lo spegnimento delle candeline ufficiali ci sarà il 21 però ieri ho spento la candelina su de mignon certo fabio una torta potevi anche prepararla comprarla ci avevo pensato infatti mi sono messa a preparare la pumpkin pie il problema è stato che mentre la stavo per infornare mi sono resa conto che nella ricetta che ho seguito consigliavano di farla riposare almeno 10 ore ormai era sera quindi ho pensato perché non mangiare una fetta di pumpkin pie dopo gli gnocchi alla zucca così creiamo un mukbang totalmente autunnale naturalmente li vedete così compatti perché li avevo riscaldati ho aspettato christian che tornesse da lavoro io nel mentre ho preparato il set ho fatto il guanciale a listarelle e poi lo sono andata a rendere croccante quindi ovviamente a meno che non siate in live non vedrete mai il piatto reale finito anche perché poi c'è sempre un momento miniatura il momento dell'introduzione quindi quello che mi vedete mangiare è sempre la versione raffreddata incollata di quello che in realtà se non registrassi e se servissi il piatto sul momento sarebbe invece perfetta la croccantezza del guanciale delle noci rende il piatto molto più divertente vi ricordo che se avete amazon prime abbonarvi al mio canale sul social viola è totalmente gratuito questo vi darà accesso a tutte le vecchie live tra cui quella di 16 ore del mio compleanno dove vado a mangiare gli gnocchi che avreste dovuto vedere anche voi vi lascio qui un pezzettino in cui stavo mostrando il piatto per farvi notare la differenza ecco quello che vi dico quando ogni tanto mi dite ma quella carbonara è un po attaccata quella pasta sembra fredda ovviamente anche a me piace mangiare il piatto ancora caldo però non sempre è possibile credo proprio che questo piatto lo ricreerò per halloween mi è piaciuto troppo e trovo che vi metta totalmente nel mood per chi se lo stesse chiedendo sono le 4.53 non preoccupatevi sia mai che una volta pranzo all'una ecco perché ogni tanto mi vedete fare un boccone in più invece di parlarvi perché ho anche fame in tutto questo in realtà il giorno prima non l'ho vissuto benissimo perché ero un po in confusione perché come penso molti di noi volevo che il compleanno fosse quel giorno perfetto volevo il menù perfetto volevo che casa fosse perfetta insomma cercavo in tutti i modi di autosabotarmi la giornata perché sostanzialmente già sapevo che non avrei potuto avere tutto quello che desideravo però poi grazie alle persone live ho avuto modo di riflettere e di capire che molto spesso cerchiamo quella perfezione di cui in realtà non abbiamo bisogno perché mi sono fermata a pensare e ho detto scusami Fabiola ma tu quando vivi le tue giornate non ti senti sempre grata felice per quello che hai e totalmente soddisfatta la risposta è sì quindi perché pensando al fatto che non avrei potuto creare il menù dei miei sogni mi sono incubita sostanzialmente a me mangiare questi piatti piace tantissimo e alla fine quando le mie aspettative sono tornate a livelli normali è uscita fuori una giornata perfetta il mio consiglio quindi è non cercate di crearvi già la giornata andate a dormire sereni felici che il giorno dopo sarà il vostro compleanno e poi vivete al momento io per esempio volevo andare a fare colazione al bar ma in realtà neanche mi piace fare colazione con cappuccino e cornetto del bar perché il cappuccino non sarà mai fatto con il latte senza zuccheri che piace a me e il cornetto non mi andrà mai a saziare e dare soddisfazione come i pancakes che mi sono preparata forse per un costrutto sociale siamo portati a pensare di volere ciò che in realtà non vogliamo svegliatevi fate quello che più vi piace vi svegliate con l'idea mi piacerebbe andare a fare colazione al bar prendete uscite invece vi svegliate con la voglia della vostra solita colazione perché per voi è la colazione più buona che esista fate la solita colazione di tutto l'anno ma chi è che ci dice che il giorno del compleanno deve essere tutto diverso tutto idilliaco non vi fate ingannare la mente a volte ci porta ad autosabotarci sta a noi poi decidere se ascoltarlo oppure no me lo sono davvero gustata ditemi se non è un sogno guardate qui che spettacolo dove c'è il cappuccino è il mio pasto perfetto infatti non vedo l'ora di fare colazione così domani mattina forse anche perché un'altra colazione che amo fare è la colazione salata con l'avocado toast e sopra l'albume fatemi sapere se vi piacerebbe un mukbang a riguardo andiamo a tagliare la pumpkin pie non ci fate caso a questi bordi apparentemente carini fino qui e poi piatti di qua però li ho dovuti creare a mano ho fatto quel che ho potuto la prima pumpkin pie della stagione che bellezza speriamo sia venuta bene eccola qui non so se qui è leggermente crudo l'impasto non ve lo so dire o forse è rimasto umido perché ha contatto con la zucca si è anche un po scollata però il risultato devo dire che non mi dispiace che dite potevo farla anche un po più fina vorrei provare a fare una pumpkin pie però con la frolla dei biscotti pan di zenzero secondo me rende mille volte di più fatemi sapere giù nei commenti se secondo voi può essere un'idea giusta oppure no anche perché io di pasticceria non me ne entendo tantissimo andiamo all'assaggio la purea è divina la prossima volta che la proverò a fare con la base di frolla pan di zenzero vi farò un video così almeno l'assaggiamo insieme e vi saprò dire se effettivamente rende di più la brise in questo caso rimane molto neutra secondo me per andare ad esaltare il gusto e la speziatura della zucca forse ora che ci penso andandoci a mettere anche una frolla con le stesse spezie all'interno potrebbe risultare un po' troppo la brise è cotta questo strato un po' più spesso e bagnatino è solo perché essendo umida la zucca si è trasferita l'umidità anche nell'impasto buonissima il ripieno eccezionale la brise l'avrei fatta leggermente più sottile unico appunto che mi sento di fare per il resto è venuta bene non è troppo dolce non è salata è neutra la definirei così bella croccantina forse va fatta leggermente più spessa così da sentirla sotto i denti e creare anche lì un contrasto tra il morbido e cremoso della purea e la croccantezza della brise non lo so all'interno ho messo un cucchiaio e mezzo di miele e mi sembra anche troppo visto che la zucca per me è già dolce di suo prossima volta proverò mettendo mezzo cucchiaio di miele giusto per dare un tocco in più di dolcezza ma senza esagerare oltretutto in questa ricetta non mettono la vaniglia mentre secondo me la vaniglia sta bene un po' con tutto quindi potremmo pensare di aggiungere i semi di mezza bacca di vaniglia quanto amo queste spezie ogni volta che mangio qualcosa aromatizzato con chiodi di garofano cannella noce moscata zenzero in polvere sono felice perché mi riporta esattamente a questa stagione all'inizio di tutto il periodo più bello dell'anno diciamocelo fatemi sapere giù nei commenti se voi preferite estate o inverno io personalmente l'autunno e alcuni di voi potranno dire beh allora anche la primavera no perché io essendo allergica al polline la primavera non la sopporto più di tanto invece l'autunno non c'è polline inizia il primo fresco la mattina però non è quel freddo che ti fa ghiacciare dalla testa ai piedi cappuccino con latte di mandorla al pro senza zuccheri il mio cappuccino del cuore anche se come potete vedere non monta devo capire se riordinando il latte di mandorla senza zuccheri al pro da amazon mi monta perché fino a qualche tempo fa se lo compravamo al supermercato era questo il risultato che ottenevamo quando lo prendevamo da amazon montava perfettamente questo è un mistero perché le confezioni erano le stesse ora però hanno cambiato il pack quindi voglio vedere se riordinandolo da amazon monterà anche quella volta in caso faccio un video testimonianza perché altrimenti sembra che le cose me le invento che bellezza guardate mi piace talmente tanto quello che vedo in questa inquadratura che ho deciso di non finire il cappuccino almeno ne rimane un po' per salutarvi spero che questo tipo di video vi possa piacere fatemelo sapere giù nei commenti perché ho intenzione di portarvi anche nella mia nutrizione quotidiana che fidatevi è molto interessante come vi accennavo già l'altra volta vorrei farvi venire voglia di cose sane ma allo stesso tempo molto gustose e belle da vedere non è detto che bisogna trovare il gusto per forza nel junk food questo è un messaggio che vi voglio mandare perché è importante trovare lo stesso gusto anche mangiando piatti equilibrati per questo video è tutto io spero vi sia piaciuto vi ricordo che giù nell'info box e nel primo commento trovate la wish list il link per venirmi a seguire sul canale viola mi raccomando lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi tutti i prossimi video che usciranno come sempre vi mando un bacione noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video ciao ciao